Una serata festata insieme con la musica, ma anche per pensare alle persone che non sono più con noi e anche a fare solidarietà. Vi ricordo che la serata è sempre in ricordo di Francesca Fontana e di Francesca Pepoli, al quale a loro farei un applauso, sono due angeli che ci stanno guardando dall'alto. È stata in musica, sono mai davvero tanti anni che organizziamo quelle serate, e cerchiamo tutti gli anni di crescita, quest'anno ci siamo affidati agli Artes. Giochiamo in casa, grandi artisti, musicisti, conosciuti anche nel nostro territorio. Noi vogliamo anche ringraziare, anche se c'è scritto nella locandina, però è doveroso farlo, almeno questo, dire grazie a tutti coloro che ci sostengono perché è fondamentale. Vi ricordo che a termine della serata faremo l'estrazione di un prosciutto di Parma, abbiamo distribuito dei biglietti a quelli che hanno fatto l'offerta libera. Buonasera a tutti. Grazie 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 a tutti.